Regione Toscana, il Consiglio regionale. Luca Signorelli, protagonista del Rinascimento in Toscana, è il titolo del convegno che si è tenuto a Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale, per celebrare il maestro cortonese a 500 anni dalla sua scomparsa. Un momento che celebra l'importante artista e occasione per presentare la guida agli itinerari in viaggio con Luca Signorelli nelle sue terre, rivolta a turisti e residenti che valorizza il patrimonio conservato in Toscana. Siamo qua anche per rappresentare quello che ha fatto il Comitato Nazionale sulla mostra del quale sono onorato di essere il Presidente e di aver legato una grande squadra. Dalla Regione Toscana al Comune al Ministero abbiamo ottenuto una mostra molto importante grazie al nostro Museo Mike, quindi alla mostra che è stata preparata ed allestita all'interno dello stesso, con 36.000 ingressi, grande successo internazionale e anche grazie al Diocesano, al Museo Locale della Diocesi, perché vanta opere importanti sul Signorelli. Chiaramente la mostra non finirà a conclusione dell'allestimento del maestro, ma proseguirà con una serie di itinerari e quindi siamo qua per rappresentare gli stessi. Ho fortemente voluto che si celebrasse in Consiglio regionale questo momento dedicato proprio alla figura di Luca Signorelli. Questo perché a Cortona si è svolta una mostra straordinaria di altissimo livello scientifico con un curatore di primaria grandezza, Tom Henry, e con dei numeri che hanno lasciato il segno. 36.000 visitatori. Considerate un 3,6% in più per la Val di Chiana di presenza rispetto al 2022, che pure era stato pre-Covid un periodo quanto mai importante, quindi consideriamo un più 24% 2019-2022. Siamo riusciti con questa mostra a far conoscere Cortona ancora di più al mondo ed è particolarmente importante che questo lavoro che si è fatto negli anni, io ricordo aver dato un importante contributo all'ideazione di questa mostra fin dalle 2019. L'occasione del Cinquecentenario dalla morte di Luca Signorelli indubbiamente ha permesso alla città di Cortona di accendere i riflettori su questo suo importantissimo concittadino con da subito l'idea di non fermarsi solo all'esposizione, per quanto sia stata straordinaria questa monografica internazionale su Signorelli che si è conclusa ad ottobre, ma di riaffiancarle da subito una costruzione di itinerari e di suggestioni che in qualche modo potessero rimanere più a lungo sul territorio, che in qualche modo fossero il famoso risultato per sempre. E quindi sono stati attivati da subito, parallelamente con il catalogo scientifico della mostra, una guida agli itinerari di Signorelli che ovviamente ha Cortona come fulcro, come centro irradiante in qualche modo, e un'idea per i turisti, ma non solo, di un percorso che rimanesse intorno ai 70 chilometri. Quindi immaginate un cerchio di cui Cortona è il centro, che arriva a grosso modo poco prima di Firenze verso Occidente e che arriva verso Orvieto a Oriente e che abbraccia i centri viciniori a Cortona in cui è ancora comunque possibile ammirare l'opera di Signorelli. Questo perché? Perché volevamo appunto dare spessore e rilievo non soltanto alle opere arrivate da tutto il mondo in occasione della mostra, ma tutto quello che il nostro territorio conserva quotidianamente, che è un patrimonio ricchissimo, che appunto va principalmente ad interessare la Toscana, ma anche territori di confine per noi estremamente significativi come l'Umbria, questa dorsale in qualche modo che da Sansepolcro ritorna verso Città di Castello fino ad arrivare appunto a Orvieto e Perugia. Quindi cinque itinerari che privilegiano ovviamente Cortona, ma privilegiano anche la Valdichiana a Retina. In Consiglio regionale si è svolto un convegno di approfondimento su pishing e sicurezza informatica per fare il punto sul tema e informare su quali sono allo stato attuale gli strumenti a disposizione di istituzioni e cittadini per contrastare questo fenomeno. Hanno partecipato all'evento il Coricom Toscana, il Collegio di Bologna dell'arbitro bancario e finanziario, la Polizia di Stato e Feder Consumatori. Noi abbiamo la necessità di non voltarci dall'altra parte rispetto ad un fenomeno che cresce e che purtroppo continuerà a crescere. I furti di identità, i furti informatici. Siamo abituati a difendere le nostre case con i sistemi di allarme. Dobbiamo costruire sistemi di allarme informatici, avere evidenza di come puoi essere truffato, insegnare alle ragazze e ai ragazzi a come ridurre questo rischio, perché nel futuro con l'intelligenza artificiale è evidente che il rischio di aumento di questi casi esiste, però per poterlo ridurre è necessario che ognuno di noi sia più formato a ridurre il rischio. Questo è il senso di questa iniziativa che Feder Consumatori insieme al Corecom ci ha voluto proporre e allora noi come Consiglio regionale dobbiamo spalancare le nostre porte, lavorare per andare nelle nostre scuole, andare a parlare nei centri sociali, nei centri di aggregazione giovanile, nei luoghi in cui si incontrano gli anziani e andare a spiegare cosa accade per ridurre questo fenomeno. La nostra attività non è soltanto un'attività di repressione dei crimini informatici, che sono davvero molteplici, ma è fondamentale l'attività di prevenzione, anche perché soprattutto dal punto di vista degli attacchi informatici, quindi parliamo del phishing, dei ransomware, delle furti di identità, sempre più spesso sono attività che vengono condotte dall'estero, quindi le attività di indagini sono molto difficili e molto lunghe, è fondamentale l'attività di prevenzione, quindi riuscire a fornire ai cittadini, ma anche agli enti e alle realtà societarie, gli strumenti per poter affrontare questi rischi. Infatti tra le nostre attività principali vi è la diffusione di informazioni sulle statistiche degli attacchi cyber e sui pericoli del momento, in questo modo le varie realtà istituzionali e anche private sono in grado di verificare se le loro reti informatiche sono idonee a sopportare eventuali attacchi di quel tipo che noi segnaliamo. Noi abbiamo avviato proprio in questi mesi una campagna in tutta la Toscana anche di informazione Corecom Tour su quelle che sono le funzioni, l'evocazione e gli impegni principali del Corecom. In questo senso l'iniziativa di oggi è molto importante, quella promossa dal Consiglio regionale e da Federconsumatori perché appunto dà voce fino in fondo a una delle problematiche principali che i cittadini, le aziende, gli utenti vivono quotidianamente che è questo appunto delle truffe telematiche, delle truffe telefoniche. In questo senso c'è un lavoro anche storico del Corecom che il Corecom svolge e col Concilia Web che è quello appunto di fare un po' da mediatore, da negoziatore tra l'utente e le compagnie telefoniche. Noi successivamente crediamo che sia importante appunto coinvolgere l'insieme dei soggetti da Toscana per una grande campagna di informazione in questo senso e noi faremo proprio un bando il prossimo anno, quello Toscana Spot dedicato proprio a questo tema, delle truffe telefoniche, delle truffe online in modo da premiare i migliori video che verranno proposti da un po' da tutta la Toscana. Importante in questo senso poi sarà che questi video vengano fatti circolare e questo noi chiediamo uno sforzo generale a tutti perché questa campagna di competenze digitali, di patronanza digitale è un tema centrale e noi dobbiamo dare gli strumenti a tutti i cittadini, soprattutto quelli più deboli e fragili, di avere gli strumenti per non incorrere in queste truffe. Abbiamo ritenuto di organizzarla perché pensiamo che sia un tema di assoluta attualità sul quale non si deve assolutamente abbassare la guardia e non ce n'è mai abbastanza e quindi c'è bisogno di procedere con una capillare opera di informazione, formazione e educazione digitale dei giovani e degli adulti perché ormai non possiamo fare a meno degli strumenti digitali per le nostre comunicazioni, per i nostri acquisti, per la nostra vita di relazione e ne facciamo spesso un uso inconsapevolmente incontrollato e questo ci espone a dei rischi gravi che è bene appunto conoscere per poterli prevenire. L'arbitro bancario finanziario è stato istituito nel 2009 dalla Banca d'Italia, è incommiabile l'iniziativa perché è uno strumento semplice, di facile accesso, economicissimo, che consente a molti sfortunati nell'ambito di questi rapporti con le aziende bancarie di ottenere un'attenzione oltre che una tutela prontissima, immediata ed efficiente. È un strumento che merita di essere incentivato, esteso, migliorato, è sempre possibile e soprattutto non solo nell'interesse del momento patologico della vicenda dei rapporti, ma anche in quello educativo. L'educazione sia nei confronti dei clienti sia nei confronti delle aziende bancarie ad una responsabilità sempre maggiore perché tutelino sempre di più i loro clienti nei confronti purtroppo dei malfattori. Si è aperta a Firenze l'esposizione di natività provenienti dall'Associazione Natale nel mondo di San Giovanni Valdarno, nella sede del Consiglio regionale. L'associazione da 40 anni colleziona presepi provenienti da ogni parte del globo e oggi ne possiede circa un migliaio realizzati con materiali più svariati dalla carta all'argento. A Firenze un itinerario che porta il visitatore a conoscere modi e modelli di costruzione presepiale che spesso affondano le proprie radici nelle più antiche tradizioni dell'arte popolare. I presepi che abbiamo qui portato alla regione sono 22 e vengono da molte parti del mondo, Perù, Corea del Sud, Turchia, Lussemburgo, un po' da tutte le parti del mondo. La cosa che ha affascinato noi nell'iniziare la collezione è proprio il vedere come venga sviluppato lo stesso tema attraverso gli usi, le tradizioni e le culture di popolazioni diverse. Da una piccola cosa che era una collezione privata negli ultimi anni arriva fino alla regione e è una ricchezza per San Giovanni perché la passione di queste due persone, questa associazione natale nel mondo che hanno raccolto 800 presepi di tutto il mondo diventa un simbolo di pace, soprattutto un messaggio di pace, ma è anche un messaggio culturale e anche un aspetto di attenzione ai particolari e ai dettagli di come si fanno le cose. Questa loro passione parte dall'attenzione alle piccole cose e l'attenzione non a quello che è superficialità ma l'attenzione al dettaglio. Loro sono partiti da una mostra che tutti gli anni viene fatta a San Giovanni Valdarno e piano piano le persone che vengono a vederla hanno chiesto ma possiamo anche noi avere in altri paesi, da altre parti, questa rappresentazione perché è una rappresentazione del Natale fatta di tanti materiali, dai materiali più poveri ci sono fatti in foglie di bambù fino a argento, materiali preziosi che vengono da tutto il mondo e quindi è un valorizzare e portare il valore dell'artigianato, dell'arte, dell'attenzione alle piccole cose un po' nel mondo. Quindi partiamo da San Giovanni ma loro oggi espongono inventi città e quindi è per noi un orgoglio rappresentare quello che è, vogliamo dire, un artigianato ma non saprei come definirlo perché è una passione che parte da San Giovanni e che viene portata, oggi arriva qua in consiglio regionale, sono in provincia, quindi che viene portata un po' in tutta la Toscana. E altra cosa importantissima che vorrei evidenziare è che questa loro mostra viene mostrata a tutti i bambini, già da ieri le scuole vanno. È il modo per raccontare la nostra tradizione, il Natale è un momento unico, è un momento in cui in tutto il mondo si festeggia la nascita di una nuova vita e attraverso queste opere, perché sono vere e proprie opere d'arte, noi vogliamo raccontare il Natale nel mondo e mandare un messaggio, un messaggio di speranza, un messaggio di pace. Qualche mese fa ormai sono stato a visitare i circa 800 presepi a San Giovanni Valdarno, rendono stupenda, unico, in un viaggio in cui si possono conoscere usi, storie e tradizioni di tutto il mondo. Grazie davvero a chi ha permesso tutto questo, perché oggi essere qui e vedere quanta bellezza c'è mi riempie il cuore. Grazie.